Allora, oggi voglio fare un discorso che probabilmente non sono la persona più titola da fare ma che vi voglio dire semplicemente come io ho perso 12 chili, più o meno in un annetto e qualcosa ma la cosa interessante è che non le ho mai più ripresi perché questa cosa l'ho fatta 2013-2014 e poi non sono ingrassato più cioè quindi la verità non sono tanto dei consigli, delle regole per dimagrire ma per non ingrassare subito dopo, cioè immediatamente e la prima cosa che voglio raccontarvi giusto un attimo è che per me è stato comunque difficile inizialmente dimagrire quindi ci provavo, cercavo di mangiare un po' di meno ma comunque avevo proprio delle abitudini sbagliate e poi iniziai a correre, provai a correre più che altro però che succedeva? Che io mi andavo a fare un calcolo, cioè vedi online quante calorie avevo sprecato quante calorie avevo consumato in quell'ora di corsa e avevo visto che più o meno era una kinder brioche e allora col punto dico, me sta cazzo è kinder brioche, ma perché me la devo mangiare? che quindi detto, l'ho detto in beneventale, ma io ho detto, questa brioche perché me la devo mangiare? lo so, forse la traduzione è stata superflua, però il punto è quindi ho iniziato già in quel momento, ma ancora non avevo iniziato, a pensare che in realtà quello che fai come attività fisica vale, conta, ma a meno che non fai attività fisica distruttive come magari sport agonistici, eccetera non è che ti serve a dimagrire più di tanto quello che conta è che devi chiudere la bocca nonostante avessi capito questo, comunque non riuscivo a dimagrire bene poi, diciamo, purtroppo per fortuna mi sono lasciato con la mia ragazza dell'epoca nel 2013 e quindi che è successo? che prende veramente, mi ricordo, un paio di settimane magari mangiavo pochissimo e comunque mi prese male anche se comunque fu abbastanza consensuale cioè comunque le feci il discorso che così non andava più bene e la chiudemmo lì nonostante questo però comunque è sempre una cosa brutta e quindi non riuscivo a mangiare tanto e dimagri di un paio di chili e notai che praticamente alla fine quello che avevo fatto non era anche che non mangiavo niente semplicemente magari dopo la pasta il panino non è proprio una buona idea no? che in effetti è facile pure di arrivarci però è così poi un'altra grande illuminazione l'ho avuto una volta a Parigi che praticamente l'ha visto che stavamo tutta la giornata fuori a pranzo mangiavamo sempre una cosa veloce allora io che pensai? vabbè io mi abboffo a colazione così pure se mangiamo poco a pranzo dovrei reggere e quindi veramente mi inizia ad abbuffare a colazione ma in una maniera incredibile cioè là veramente esageravo c'è piavo il cornetto e il panino e la cosa a colazione veramente esageravo in quell'albergo però mi ritrovai che veramente stavo tutta la giornata senza problemi e quindi la capi anche perché di solito invece verso mezzogiorno già iniziavo a tenere fame verso le... tipo di solito mangio verso l'uno e mezza e ceno verso le... otto e mezza quando va bene se no verso le nove ok? quindi mi trovo sempre verso le sette e mezza a tenere fame verso il mezzogiorno a tenere fame ok? a Parigi invece non abbiamo questo problema quindi queste due illuminazioni in realtà mi hanno portato ad avere queste piccole regole che in realtà mi hanno fatto dimagrire costantemente nonostante secondo me io mangiassi tanto semplicemente la mattina fare tanta colazione quindi mi va quel mandarino in più me lo mangio mi va di prendermi lo yogurt con i cerealini dentro me li piglio mi va di prendermi pane e nutella me la mangio mi va di prendermi il panino e ci voglio mettere la sottiletta dentro perché quel giorno mi va così me la mangio tutto quello che mi viene proprio da mangiare fin quando non mi riempio me lo mangio la mattina potete stare tranquilli che poi non dico che non tenete fame tutta la giornata però veramente potete mangiare poco tipo a pranzo se io vi mangio un piatto di pasta basta stop non è che prima invece mi mangiavo dopo la pasta vi pigliavo tipo il prosciutto e qualcosina il crackersino la cosetta niente non mi piglio niente dolce ovviamente non ne tocco più fino alla mattina dopo quindi pure questa quindi i dolci solo a colazione ovviamente le feste è diverso se mangio la pasta non mi mangio il pane se mangio le patate dipende quante patate però insomma cerco di non mangiare il pane quindi carboidrati limitati e praticamente e dolci pochi praticamente questo è si la pavete lascia con la ragazza per capire vabbè però non so scatiamo che è facoltativa diciamo come passaggio e quindi alla fine è così qua sono le uniche regole che faccio si eppure sono dimagrito e non ho più ripreso i chili che avevo perso quindi secondo me quello che è da interrogarsi è il fatto che troviamo su internet dieta miracolosa che dieta così dieta così e continuiamo a provare diete magari finché non troviamo quella adatta a noi oppure facciamo delle diete ultra sofferenti no? perché magari sono proprio ultra dure da tenere quando poi in realtà se ci pensi alla fine è un fatto di buon senso cioè il 90% delle cose che ti vendono diciamo come strategie di marketing strategie no di marketing di dieta strategie di eccetera eccetera alla fine con un po' di buon senso te la capi lo stesso questo volevo dirvi ciao grazie a tutti grazie a tutti